Benvenuti in questo nuovo video di Roblox Questa è una poppa molto interessante, molto intelligente, molto piena di significato Infatti il nostro obiettivo sarà fare delle puzzette talmente potenti da volare in giro per il mondo E siamo sopra un water Cosa mai potrebbe andare storico? Dove mi hai portato oggi? Perché sono qui? Cosa ci faccio? L'ho trovata e ha detto perché non giocarla? Grazie Perché non giocarla? Ma ti pare che mi porti in una poppa dove devo stare seduta su un bugito A fare le puzzette Quando raccogli la cacca ottieni i punti Ok, che vedo alla sinistra E ne ho 400 Immagino che se faccio la puzzè Nooo Ma sei partito? Sì, 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 ha fatto un ottimo volo Vediamo Il problema è che sto gioco a una musichetta che potrebbe avere il copyright Ma io vi voglio far sentire almeno una volta E voglio sentirlo anche io almeno una volta Il rumore della puzzetta Quindi scusatemi un attimo ma almeno una puzzetta che sentiamo Ok E devo dire che rende di più Lasciano l'audio e poi vediamo un attimino se ci ha coperto Sì, magari poi le aggiungiamo in editing Non lo so Eh no, ma la prolunga proprio bene E lo so, non è fatto bene Sì, 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 hai fatto molto bene Cioè, ho apprezzato Non capito È proprio Fa anche Gli alzamenti e gli abbassamenti di tonalità Perfetto Ho proprio fatto un 23 Allora, ho 59 Di conseguenza posso prendere il primo petto E ho visto che ho trovato il non comune Da 2400 qualcosa Posso già andare a fare la mia seconda puzzetta Uh Grazie al petto faccio delle puzzette potentissime Ho già tenuto altre 50 vittorie Cioè, non so proprio cosa commentare Cosa dovrei dire Che figo Ho il cagotto e sto volando in alto con le mie puzzette Cioè, cosa dovrei commentare? Ti prego Può essere un'idea quella Cioè, non so cosa dire ragazzi Perché tutto quello che puoi dire è imbarazzante Quindi Sium Compriamo un pet Almeno i petto sono normali Però vedi, questa è una cosa banale Gli avrei fatti di cacca Avrebbe fatto più ridere, sinceramente Dici, ormai Abbiamo fatto 100 facciamo 101 Eh, infatti, ovvio Ok, ho trovato pure quello ancora più comune In questo momento io ho 8000 di cacca Perché la valuta è la cacca Quindi abbiamo la cacca Quanto serve per fare le verte? 100.000 Mi sa che non lo faremo oggi Penso proprio di no Non ne sono sicuro Perché comunque si va veloci Allora Allora, sto vedendo anche i bici Ma li hai visti? Eh, che bello Ce ne sono tantissimi Aspetta No, io ho cambiato wc La vedi? Ah, perché c'è quello Ok, è il primo per stare nella mappa 4 minuti E dà qualcosa in più Eh, sì Ti dà più 10% speed E più 5% awards Bellissimo Però Steph C'è quello con i cuoricini Solo che devo mettere un codice Che non conosco È un po' un problema Ok, ho trovato un pet raro Ne compro anche un altro Raga, vediamo Comune Va bene Allora, facciamo così Ah, ma quanti pet Ah Che succede? Si possono avere 6 pet equipaggiati Ok Di conseguenza Non ne avevo idea Ma qua si vola Uuuuh Vabbè Dimmi Devi guardarmi Cosa hai comprato? Hai sciopato? Sì 49 robux era scontato Ma perché ne rassoglia una mappa di puzzette? Per favore Perché era bello Ce lo so che le fai tutto il giorno E ti senti a tuo agio In questa mappa Non faceva arrivare questa battuta Ed era totalmente fuori luogo È colpa tua Ma guarda quanti fettai Non sai neanche parlare Quindi zitto Chi ha sfondato la porta Aiuto Dai gatti Ce la fai a richiuderla Ti sei staccato quella hard disk Cosa sta succedendo? Oh mio dio Sti gatti Io non ce la posso fare È entrato Allora Mi riavvicino Che stonano Mi sentite È entrato Leo di corsa Ha centrato La porta E poi di testa Ha preso il mio pc Mi ha staccato l'hard disk È successo di tutto Vabbè Il bello della diretta Ma dai un video? Eh vabbè Il video lo registri in diretta Scusami Quello il senso È ovvio Va bene Sei un po' confusa O devi stare sempre No Sempre A puntualizzare le cose Ok non comune Penso di essere 4 di 5 Perché Ferro ancora Non ha notato Che questo è un gioco di merge Cioè in tutti i sensi In tutti i sensi Non sapevo se dirlo O non dirlo Ok Cosa vuol dire Che è un gioco di merge? Eh capisci Devi unire i pet Ma io non ho mai soldi Per comprare i pet Cioè non ho mai Valuta Ho trovato quello epico Bellissimo Ma che fortuna Eh sì Epico Leo Leo T3 Ti spacco in due Era anche Camille stavolta Perché Sì ma Camille lo seguiva Esatto E poi ho visto Leo volare Io non so come riescono Sti gatti a volare Allora Sai che devi provare A chiudere la porta Vero? Eh che cavolo Ma posso giocare oggi? Mamma mia Allora Allora Ok Ce l'ho fatta Fortuna che questo studio Ragazzi è talmente piccolo Che basta che mi alzo Dalla sedia Per riuscire a chiudere la porta Epico Diciamo che c'è il lato positivo Posso comprare sti pet Non me li sta facendo comprare Ok presi Perfetto Raro Bello Bello Ne sto trovando un sacco Però io voglio trovare anche quelli da mergiare Esatto Deve essere quella la tua speranza Sto comprando tanti di quei pet Un altro raro Buono Buono Ragazzi possiamo fare già un team Non da poco Però ti posso dire che il merge È veramente di alto livello In questa mappa Sì Sì Cioè nel senso ti da pet forti Fortissimo Il mio Mergiato è da 12.000 Porca miseria Eh già No io ancora non riesco a farli Perché ne ho 3 di 5 Io ne ho già mergeato 2 Ragazzi Merge Merge So che sto comprando tanti pet 12.000 Però vi garantisco che sto facendo dei calcoli E attualmente non combiniamo nulla Altrimenti Quindi mi sto adattando alla mappa 1, 2, 3, 4 Questo li posso equipaggiare E qui è best 12 12, 11 4, 4, 2 Tra un po' possiamo Continuando così ad unire anche quelli da 2 Altrimenti mi occupa tanti di quei pet Eh guarda quanto volo con i pet Pensa che ho il doppio del tuo cagotto Eh ho notato Un altro epico Buono ragazzi 3 epici totali Leggendario Ce l'hai fatta? 3.5% di possibilità Ah ma ci sono i codici qua Aspetta Per cosa? Per prenderti il wc 500 likes code Qual è quello di 500 like? 500 toilet Vediamo se funziona Per esperta di codici dei water Esatto Vediamo quanto vogliamo Ma non lo posso mettere ragazzi Non mi posso mettere i codici Non ci capisco nulla Penso che facciamo forse 400.000 Quasi Ecco codici Quindi Com'era me lo sono dimenticato 500 toilet Vediamo Cioè fai? Eh no Mi sono ridimenticato Eccolo qua 500 500 Aspetta Toilet Ah Bene Ti prego Guarda il mio schermo Pronta? Sì io sto riscattando Guarda come volo Io sto riscattando i wc Eh che carino questo Ho finito la mappa? Quasi Ok Però è meno forte Di quello che ho comprato Perché dà il più 10% speed Più 5% awards Mentre quello che avevo comprato Era più 20% E più 10% Quindi in realtà non conviene molto Però è carino perché ha cuoricini Ok Sì sì è molto carino Posso darti un consiglio? Dimmi In basso a destra È potentissimo Posso darle un altro consiglio? Vado a vedere quanto è potente Per farle capire il no senso di questa mappa Ma io ne ho shoppato uno però Aspetta Cioè non è giusto No non è un butter È un pet Ah è un pet Ok mi sembrava un butter Vado a leggere Grazie Dai però signori Ma no Ma così rovinate le mappe È un po' troppo Cioè va bene divertirsi Comunque devo rimettermi i palloncini Perché è oggettivamente più forte Io al momento ho 250 250 2000 Di cagotto E penso Vediamo dove arrivo con questo nuovo pet Ho finito la mappa Allora faccio il doppio acquisto Ma come? Stef ha equipaggiato un altro pet E mi ha fatto fare meno di prima Scusami è quello da qua Ah non me l'hai equipaggiato Ecco Ma hai fatto un fail incredibile Sì non me l'avevi equipaggiati Ho cliccato Equip Equip best O quello che è E non me li ha messi Buono Ok è comune Giusto Giusto Va bene Che poi in realtà è il mio obiettivo Finito la mappa Dovrebbe essere quelli di mergiarli Ho 362.000 adesso Quindi dovrei fare Un milione e mezzo Vediamo Allora il milione Easissimo Si va ancora 500.000 Un milione e mezzo Che poi ci sono anche altre zone Il problema è che il 3 bert È esageratamente costoso Cioè la prossima zona Cioè la prossima zona te ne chiede 12 Ma siamo matti Ma come fai? È ancora il best raga No No perché ormai è già il primo che avanza Ok Ok Quindi iniziamo gli acquisti Utili al mergiare Oh Oh L'hai trovato Finalmente Da quanto diventa? Da 100.000? 150 Non ha senso Non ha senso ragazzi 512.000 Raga penso che facciamo i 2.000.000 Pronti? Super puzzetta siungo Vai Vai Un milione è fatto Dimmi che ci arriviamo Ci arrivi Ci arrivi 2.000.000 Ci arrivi Bellissimo Mi stavo per emozionare Sapete che forse riusciamo a fare anche Ho trovato il pet leggendario Non ci credo Davvero? Sì E quanto dà? Meno del tuo Il che fa ridere Vabbè 90.000 90.000 Allora ne ho 4 di 5 anche io per il comune Quindi me ne manca poi un altro Per fare il merda Leggendario? Eh vedi Trovato Eh vedi Quello che ho trovato pure io Ok ragazzi Non comune mi sa che siamo a 4 di 5 Allora facciamo ovviamente equipaggio best Perché adesso abbiamo anche il leggendario Siamo veramente Dai dammi il comune adesso Mi serve un altro non comune Eccolo Trovato E facciamo il record definitivo di oggi Faccio anch'io il merge Steph Nel mentre vi faccio vedere Che il leggendario è troppo bellino però eh Ammettiamolo tutti Io continuo a comprarli però questi da 5.000 Perché potrei fare anche l'uncommon Che mi pare Ecco l'ho trovato Quanti ne ho? Quanti ne ho? Ne ho 3 di 5 Ce ne mancano altri due Mangia i panettoni Guardalo Da 200.000 Porca miseria Ah infatti ne ho 3 di 5 di quello Ok ragazzi Ho 700.000 Forse facciamo 3 milioni Let's go Però ormai ha perso Uno Ma che perso Due Ce la faccio? No Ok stesso risultato di prima Raga dovremmo mergiare 3 rari per farcela Praticamente arrivo a 2.800.000 No vabbè Ok 15.000 Quindi voglio assolutamente dire Uno lo mergiamo raga Comune Ok abbiamo il merge Possiamo fare i 3 milioni Steph Ho trovato l'epico Io il leggendario Sì ma devo trovare un comune o un non comune Uno di quei due non me ne faccio niente Cioè poi sì cavolo Comunque uno epico equipaggiato non è male Ma ragazzi non mi serve Non mi serve Guarda il mio team Guarda 200 150 150 150 150 90 90 Ma porca miseria Dai volevo fare È il momento Volevo fare gli ultimi merge di oggi Facciamo il 3 milioni e chiudiamola qua Aspetta però io adesso me li devo mergiare Ne ho 45 di entrambi No no io me ne vado No no Steph devo farlo 2 milioni 3 milioni E 3 Sono veramente euforico Sapete Diamo il tempo a Ferreri far quello che deve E vediamo se troviamo l'ultimo raro Perché ragazzi con l'ultimo raro faremo il merge dei rari Oh il comune Che nessuno ha mai visto Ma immagino che l'abbia visto chiunque Però nessuno l'ha mai visto Che sfiga di poco non posso coprire le due Dammi il raro E adesso però vorrei trovare Allora faccio magari l'ultimo acquisto Vediamo se troviamo il non comune Ci portiamo A mergiare pure quello Al momento ho 200 mila di potenza in più di te E beh è normale Dai Il raro E siamo veramente Top e te Basta con questi comuni Proprio adesso no Dai ho 9.3 Ah no Aspetta Raro ce l'ho Ne voglio prendere due 500 Inutile Sei pronta a scoprire da quanto è il raro mergiato? Vai 250 È il nostro più forte in assoluto Equipaggia best Vi faccio l'ultimo volo Ho praticamente un milione di potenza Un milione Trovo il raro ragazzi Due milioni Che devo fare? Mi serve il non comune Ecco l'ho trovato Non ci posso credere Ho trovato Steph Mergiò anche il non comune Bimbi Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao